Siamo a Napoli al Roadshow dell'IDC in cui si parla di ET Transformation. Con noi c'è Fabio Pacelli, responsabile dei sistemi informativi dell'aeroporto di Napoli. Fabio, l'aeroporto di Napoli come si è trasformato negli ultimi anni? La trasformazione è passata da una fase iniziale di analisi e studio della situazione. Stiamo parlando di circa 15 anni fa, nel 1998, quando c'è stata la prima privatizzazione in Italia degli aeroporti con l'acquisizione di IBI. E quindi c'è stata una riorganizzazione e una fondazione proprio iniziale dell'IT per poi cominciare con una copertura di tutti i principali processi di business. Oggi si può dire che l'IT all'aeroporto di Napoli vive in simbiosi con lo sviluppo business e quindi è un IT molto governato da un punto di vista business, quindi a livello di C-Level. Io personalmente rappresento solo il CIO dell'aeroporto di Napoli e lavoro in stretta sinergia con tutti gli altri C-Level, quindi il CFO, il CIO e tutti i colleghi che governano il business del trasporto aereo. Per questo abbiamo implementato un modello di governance COVID compliant, nel quale cerchiamo di mantenere una efficientazione degli investimenti in linea con quelle che sono le strategie di sviluppo di business e recentemente con la crisi del trasporto che ha portato a fare di più o di meno. Quindi meno tecnologia, più business, più organizzazione. Esatto, oggi devo dire che il modello fondamentale per noi è quello di avere un catalogo di servizi sempre di più allineato alle esigenze del business, sempre di più modulabile in funzione dei picchi e anche delle esigenze del mercato. investiamo moltissimo per collaborare con i processi di business e per capire come l'IT anche rispetto all'innovazione tecnologica può sopportare i nuovi fenomeni del mobility, del social network, dell'e-commerce. Quali sono le nuove tecnologie su cui state investendo? Le nuove tecnologie sono proprio, grazie anche ai fenomeni e alle possibilità fornite dal cloud, oggi siamo riusciti a mettere in piedi veramente in tempi brevissimi un time to market strettissimo, sistemi di e-commerce per il pre-booking, per rilanciare i parcheggi dell'aeroporto. Prima l'aeroporto quasi in monopiolo, oggi si stiva per esempio i parcheggi. Oggi ci troviamo a far fronte alla concorrenza e quindi abbiamo dovuto mettere insieme dei sistemi che consentono ai nostri clienti di usufruire del servizio, di poterlo prenotare e pagare in maniera anticipata e competitiva rispetto al mercato che sempre di più è competitivo. Con noi c'è Luca Dell'Isola, coordinatore delle infrastrutture e del networking di Metro Napoli. Metro Napoli è una realtà della pubblica amministrazione che gestisce i trasporti. Delle metropolitane e delle funicolari, sì esatto. Esatto, un settore molto colpito dalla crisi, che chiaramente è uno dei primi in cui vengono effettuati i tagli. In questo caso come si trasforma l'IT? Come un cambiamento del data center può portare efficienza e risparmio? Noi come Metro Napoli abbiamo sempre avuto una struttura IT abbastanza piccola e questa cosa diciamo ci ha aiutato poi a superare la crisi che tuttora c'è ancora proprio grazie alla nostra estrema flessibilità. Noi abbiamo iniziato un discorso nel 2005, un discorso che come molte altre realtà della pubblica amministrazione partiva da una soluzione con isole completamente scollegate tra di loro. Noi siamo molto diffusi sul territorio avendo officine, depositi e centri di direzione sparsi in tutta la città di Napoli. Quindi abbiamo iniziato con un lavoro di creazione dell'infrastruttura, con un lavoro di centralizzazione di tutti i servizi che è stato un lavoro che poi si è rivelato utile perché avendo creato l'infrastruttura tra il 2005 e il 2009 basandoci su tecnologia in fibra ottica abbiamo interconnesso tutto abbastanza velocemente e su questa base di infrastruttura abbiamo calato poi un po' alla volta tutti i servizi dal VoIP ai servizi di applicazioni centralizzate e adesso da un paio d'anni a questa parte abbiamo iniziato il discorso della virtualizzazione del data center riportando gran parte di quelle che erano le nostre tecnologie che si trovavano su server di vario tipo, alcuni anche abbastanza obsoleti su un'infrastruttura basata su VMware allineata con quelli che sono gli standard de facto del momento. Utilizzate il cloud? Il cloud non lo stiamo ancora utilizzando, ne abbiamo parlato in azienda soprattutto per quello che riguarda il ritorno di alcuni servizi che tra il 2007 e il 2008 erano stati riportati in azienda quindi posta elettronica, sito internet, a riportarli all'esterno quindi fare un po' un discorso esterno è un discorso diverso, siamo partiti dall'outsourcing, abbiamo riportato in sede una serie di servizi anche meno critici e adesso come molte aziende stanno facendo ci rendiamo conto che una parte di questi servizi che non sono mission critical possono essere riportati all'esterno e quindi stiamo valutando il rapporto costo-benefici di queste soluzioni. E' parlato di una struttura piccola, questo perché delegate molto all'esterno, utilizzate molto l'outsourcing? Soprattutto per la parte di sviluppo degli applicativi, poi la centralizzazione ci rende diciamo abbastanza semplice gestire l'ordinario con un numero di risorse abbastanza limitato, quindi diciamo che per tutto quello che riguarda la gestione della normale manutenzione dell'infrastruttura di networking abbiamo soltanto due persone anche se poi siamo in parte, diciamo ci coordiniamo con altre strutture che sono le strutture di telecomunicazione e telecomando che si occupano più della parte relativamente al trasporto, che hanno un numero di risorse più elevato e che ci aiutano per quelli che sono i problemi che possono nascere sui servizi che abbiamo sulle linee. Senti Luca, sviluppi futuri? Cosa avete in cantiere? Diciamo che da un punto di vista di progetti abbiamo parecchie cose che bollono in pentola ma come hai detto tu proprio all'inizio di questa intervista ci troviamo in un periodo abbastanza difficile economicamente e quindi diciamo che gran parte delle risorse adesso saranno utilizzate soprattutto immagino per quello che è il miglioramento del core business e quindi del servizio di trasporto vero e proprio anche se adesso il costo dell'IT per molti progetti a grande valore aggiunto si è estremamente ridotto quindi considerando la possibilità che ci siano dei soldi da investire nell'immediato futuro per quello che riguarda la parte IT sicuramente le prime cose di cui ci vogliamo occupare riguarderanno il miglioramento della parte di disaster recovery da un lato e dall'altro lato l'ampliamento della virtualizzazione non soltanto più al mondo server ma anche all'application e client. Grazie Grazie Grazie